L'ufficio studio di Mediobanca, in un report di 88 pagine, ha passato al setaccio commissioni e performance delle 5 società di gestione del risparmio quotate a piazza affari, per capire se negli ultimi anni i costi dei fondi per i risparmiatori sono calati. Le società analizzate sono 5, Banca Generali, Anima, Azimut, Banca Mediolanum e Fineco. Secondo questa analisi di Mediobanca, Azimut è la società che colloca i fondi più cari. Tra commissioni di gestione e di performance, un cliente di Azimut può pagare fino al 6% annuo di costi. Azimut su alcuni fondi arriva ad applicare spese correnti del 4% e far pagare un TER del 6%. Il Total Expense Ratio, TER, è un indicatore che rappresenta tutti i costi che gravano sui sottoscrittori di un fondo, comprese le commissioni di performance. Nella tabella sottostante, che è un estratto di quella contenuta nello studio di Mediobanca, vengono indicati i 5 fondi più cari collocati da Azimut all'interno dei top 40 più sottoscritti. Il fondo Global ESG ha, tra i primi top 40 dei fondi più sottoscritti dai clienti Azimut, nel 2020 ha applicato il 4% di commissioni di gestione e il 2,30% di commissioni di performance. Ci sono altri fondi tra i più collocati ai clienti da Azimut che superano il 5% di costi annui, tra spese di gestione e di performance. Sono tutti fondi azionari. Global Fund, Emerging Asia Fund, Small Cap Europe Fund, Global Emerging Fund. L'ESMA è l'autorità europea che ha tra i propri compiti anche quello di aumentare la tutela degli investitori e di far applicare commissioni calcolate in modo più equo da parte degli intermediari. Nonostante le raccomandazioni dell'ESMA di calcolare le commissioni di performance su base annuale e non mensile, nel 2020 il 15% dei fondi più sottoscritti dai clienti di banca generali ha applicato commissioni di performance in presenza di un risultato negativo per i propri sottoscrittori. Il 25% dei fondi più collocati da Azimut ha applicato commissioni di performance sui suoi fondi, nonostante performance annuali negative per i sottoscrittori. Questo è stato possibile grazie al calcolo mensile anziché annuale delle commissioni di performance e secondo Mediobanca è semplicemente inaccettabile. Banca Mediolanum nel 2020 non ha invece incassato commissioni di performance quando il risultato è stato negativo, essendosi già allineata alle nuove regole di calcolo indicate dall'ESMA relativamente alle commissioni di incentivo. Fineco resta l'unica società a non applicarne come si vede nella tabella sottostante che è un estratto di quella contenuta nello studio di Mediobanca. Il cahier de doléances sulle commissioni di performance non finisce qui. Molte società etichettano sempre più fondi come flessibili quando secondo Mediobanca sono degli azionari in verità molto poco flessibili per poter applicare dei benchmark facili da battere su cui calcolare le commissioni di performance come l'Euribor a tre mesi che in un fondo azionario non potrebbero usare. Le spese correnti in inglese ongoing charge quelle che gravano sul sottoscrittore di un fondo superano il 3% nel caso di azimuth e banca generali mentre banca Mediolanum sui fondi più collocati applica in media costi del 2,69% Fineco del 2,23% e Anima dell'1,65% come si vede nella tabella sottostante che è un estratto di quella contenuta nello studio di Mediobanca. Altro tema scottante è quanto i costi assorbono il rendimento finale per l'investitore. Nel caso dei fondi obbligazionari possono mangiarsi due terzi del risultato tanto che nel report a cura dell'ufficio studi di Mediobanca ci si chiede se abbiano senso sottoscriverli. Come si vede nella tabella sottostante che ha un estratto di quella contenuta nello studio di Mediobanca sono riportati i costi dei fondi obbligazionari più distribuiti da banca generali Mediolanum, Fineco, Azimuth e Anima. Tra spese corrente e commissioni di performance i fondi obbligazionari di banca generali hanno applicato nel 2020 costi totali del 2,68%, Mediolanum dell'1,38%, Fineco dell'1,95%, Azimuth del 2,04% e Anima dell'1,26%. Considerando la performance ottenuta da questi fondi nel 2020, nel caso di Anima i costi hanno ridotto quasi del 50% la performance del sottoscrittore, di oltre il 50% quella dei clienti Fineco, mentre nel caso dei fondi di banca generali e di Azimuth due terzi del rendimento è stato assorbito dai costi, fino ad arrivare a banca Mediolanum in cui i costi hanno assorbito l'89% del rendimento potenziale per l'investitore. Uno spaccato molto interessante che conferma le contraddizioni di un sistema basato sulle retrocessioni che alimenta un'incredibile asimmetria informativa. La maggior parte dei risparmiatori in Italia non ha nemmeno chiaro che la consulenza offerta da banche e reti ha un costo e dove peraltro chi lavora sul fronte e colloca i prodotti, consulenti abilitati all'offerta fuori sede, con le varie e sempre più pittoresche denominazioni ottiene dalla torta una fettina minuscola perché la maggior parte va ai piani superiori. Questi dati meritano diverse riflessioni e le conclusioni dell'ufficio studi di Mediobanca sono le seguenti. Qualche progresso è stato fatto ma occorre fare di più. Ti è piaciuto questo video? Se vuoi rimanere sempre aggiornato su uno degli investimenti ricevendo una selezione dei migliori contenuti riservati iscriviti a letterasettimanale.it. A presto!